Amici sportivi e amici dell'Orientiring benvenuti anche oggi qui a Piedeleviote Finalmente! Amici dell'Orientiring, campionati italiani in long distanza Amici dell'Orientiring, oggi mountain bike orienteering dopo tanti episodi con Azimut TV siamo a Borgo Valsugana, campionati italiani sprint e long di MTBO tutti contro Luca Dallavalle, tanti avversari, percorsi splendidi andiamo a vivere assieme questa giornata di grande agonismo Amici dell'Orientiring, siamo a Revinano e oggi ovviamente siamo all'Orientiring Grandissima giornata di emozioni oggi a Borgo Valsugana andiamo a sentire la voce dei protagonisti quelli veri magari il campione Luca Dallavalle, vincitore oggi qui a Borgo Valsugana Sì, proprio così, oggi è andata molto bene, mi è piaciuta molto la gara e era proprio difficile da pensare, mi sono divertito ho fatto pochissimi errori e sono soddisfatto Milena Cipriani, nuova campionessa italiana sprint vincere in casa è un'emozione particolare Sì, è un'emozione bellissima è stata una bella gara, una bellissima giornata calda, con il sole e sono riuscita veramente a fare una bella gara veloce Mi piace l'Orientiring, è lo sport del fair play Amici dell'Orientiring, si concludono così questi campionati italiani sprint Ricordate, barare non paga e noi speriamo di vederci domani per la prova longa